Il ministro della difesa Lorenzo Guerini in un question time alla Camera ha parlato dei fatti di Piacenza dove la caserma dei carabinieri è stata sequestrata, sei militari dell'arma sono stati arrestati con accuse gravissime. Chiarezza, chiarezza è e sarà la parola d'ordine. Non può e non deve esserci spazio per l'ambiguità o per il sospetto che possa alimentare atteggiamenti di sfiducia verso l'arma dei carabinieri e verso le istituzioni tutte. Ho chiesto dunque per gli aspetti che più offeriscono le competenze e le prorogative della mia funzione che i dovuti accertamenti sulle dinamiche dell'accaduto siano condotte con il massimo scrupolo e precisione senza limitare ulteriori iniziative che vadano a verificare i processi più generali dell'impiego del personale. D'intesa con il Comandante Generale verrà perseguito ogni necessario approfondimento anche nella prospettiva di affinare gli strumenti di selezione e formazione e comunicazione e controllo. La vicenda di Piacenza nella sua inaudita gravità ha fortemente scosso non solo i sentimenti dei 110.000 carabinieri che ogni giorno lavorano con l'altissimo senso del dovere delle istituzioni ma anche gli animi di tutti gli italiani che all'arma guardano con fiducia ed affetto come il più prossimo volto della legalità e dello Stato. Ed è per questo motivo che da subito è stato offerto il massimo impegno a collaborare con la magistratura ed intesa con il Comando Generale è stata avviata un'inchiesta interna affinché si pervenga ad una completa cognizione sia degli accadimenti sia degli eventuali elementi di criticità nei sistemi di controllo e di verifica.